Oggi scade la convenzione tra Prefettura e l'albergo di Gromo che come sappiamo sta ospitando da alcuni mesi dei profughi nordafricani. Com'è la situazione? Diciamo che la situazione qua a Gromo è così aggiornata. Sono presenti ancora 5 profughi in questo albergo. Sono comunque continuamente in contatto con la Caritas di Bergamo. So che tre persone verranno comunque inserite in alcuni progetti relative ai fondi europei che ha appunto a disposizione la Caritas ed altre due sono in attesa ad esempio di essere inseriti in altri progetti oppure vedranno di raggiungere appunto parenti ed amici in altre parti d'Italia o anche in altri paesi europei. Comunque come abbiamo visto anche ieri la nota sull'eco di Bergamo, nessuno verrà messo per strada tra i profughi appunto presenti a Bergamo nemmeno ora che il progetto di accoglienza straordinario è ormai giunto alla chiusura. C'è stato un accordo appunto tra Questura e Prefettura e hanno condiviso una linea di azione nel segno della collaborazione e del buonsenso. A Gromo dopo la protesta dei mesi scorsi è stato fondamentale l'intervento della Caritas? Sì, sì è stato fondamentale l'intervento della Caritas, sono stati un po' accompagnati tramite dei mediatori culturali, alcuni poi comunque anche quando sono entrati in possesso del documento di identità hanno lasciato appunto la bergamasca e hanno cercato lavoro. So che qualcuno è andato in Francia, qualcuno a Napoli e anche a Roma e sono alla ricerca di altri progetti in poche parole. Per quanto riguarda appunto la situazione attuale, questi cinque sicuramente in breve tempo poi si trasferiranno dall'albergo, anche se ecco non è più così tassativa questa data perché c'è stata questa linea condivisa a Prefettura Questura e Caritas che nessuno dei rifugiati verrà messo per strada. Ecco colgo l'occasione di questa diciamo breve intervista per dare una risposta a una lettera anonima che mi è giunta alcune settimane fa da un gruppo di disoccupati in cui appunto dicono che il sindaco si deve vergognare per la questione dei profughi, che il sindaco è un imbecille e che chiaramente prima vanno aiutati gli italiani. Ecco io continuo a ribadire che comunque il comune di Gromo non ha sborsato nulla su questa questione perché è tutto a carico dello Stato e che comunque se veramente ci sono le persone che hanno problemi anziché mandare lettere anonime forse è meglio che escano alla luce del sole e vengano in comune e parlino direttamente con il sindaco o con l'assistente sociale che chiaramente cercherà magari di poter vedere come si può trovare una soluzione, se si può trovare una risposta a questi problemi. Non è sicuramente con le lettere anonime che i problemi si risolvono. Ecco e poi comunque queste persone, al di là che siano degli stranieri, che siano a mio parere, secondo coscienza non vanno comunque abbandonate.